Ciao a tutti e benvenuti nel quinto episodio della serie Varliamone, serie che giornata dopo giornata analizzerà tutti gli episodi dubbi della Moviola sulle 10 partite della giornata. Prima di iniziare volevo ricordarvi però di lasciare un piacere al video, di iscrivervi al canale e se vi siete persi i scorsi episodi di questa serie vi ricordo che li potete recuperare tutti tramite la playlist che si trova appunto sul canale. Partiamo dai primi tre big match dove gli arbitri hanno un po' più faticato per poi riprendersi nelle partite di domenica dove non ci sono stati grossi episodi arbitrali dove quasi tutti gli arbitri se la sono cavata più che greggiamente. Partiamo dalla prima partita che è Fiorentina-Juventus che è stata arbitrata in modo impeccabile, quasi perfetta da Doveri a cui abbiamo deciso di affidare come voto 8-0. Praticamente sbaglia poco o niente, è servito l'ausilio del Varliamone, adesso andiamo ad analizzare episodio per episodio. Partendo dall'episodio principale che è sicuramente quello del rigore concesso alla Fiorentina. Rigore netto, rigore che è stato segnato con l'ausilio del Varliamone, giusto anche la decisione di non ammonire il centrocampista Paredes che è l'autore del tocco di braccio sul pallone. Giusto non ammonirlo perché sappiamo che si ammonisce solamente se il tiro, in questo caso di Sottil, è indirizzato verso la porta. In questo caso essendo un cross, il giallo non ci doveva essere e non c'è stato. Braccio largo, ci sta a segnare un calcio di rigore. Si sa che su questi episodi ormai da quando c'è il Var, il Var può intervenire e il Var, se l'arbitro non dovesse averlo visto, così come è sembrato appunto anche dalla sua movenza in campo, è stato giusto l'intervento ed è stata anche la giusta la decisione di correggersi ed a segnare il rigore che poi è stato sbagliato appunto da Jovic. Nell'arco della gara poi sempre giuste anche le altre decisioni, come sono state giuste le decisioni di convalidare il gol di prima di Milic e poi di Quame per che non c'era fuori gioco, quindi due decisioni giuste, come è stato giusto anche non assegnare rigore alla Fiorentina nel contatto tra Quadrado e Sottil. Passiamo al prossimo big match dove Kiffi ha avuto qualcosa da fare, qualcosa dove si poteva migliorare. Stiamo parlando del derby di Milano dove Kiffi appunto ha preso come voto sei meno. Sulle decisioni importanti della gara ha sempre preso la decisione giusta, ma dal punto di vista disciplinare forse ha peccato di qualcosa. Adesso andiamo a vedere come è stata giusta la decisione di non assegnare il rigore all'Inter per il tocco di mani di Tomori, mentre nell'ambito disciplinare manca un giallo per Cialanoglu e Bastoni ma soprattutto manca il secondo giallo per Teo Hernandez che dopo aver preso il primo per un battibecco tra lui Dumfries nel secondo ha rischiato veramente molto per il secondo cartellino giallo che avrebbe permesso al Milan di rimanere in dieci e magari avrebbe potuto cambiare la storia del derby. Passiamo al terzo big match ed ultimo big match della giornata. Stiamo parlando di Lazio-Napoli che ha arbitrato Sozza, a cui abbiamo deciso di affidare come voto sei. Tante proteste, soprattutto da parte di Sarri nel post-gara, su due episodi. In uno l'arbitro ha preso la decisione giusta, mentre in uno ha preso la decisione sbagliata, ma anche a causa del non intervento del VAR. Partiamo dalla decisione sbagliata. Stiamo parlando del rigore non dato alla Lazio nel contatto tra Lazzari e Mario Rui. Qua Mario Rui apre in modo evidente il braccio sinistro verso il collo, verso la golla di Lazzari che poi si lascia cadere. Qui ci sono tutti per dare il calcio di rigore alla Lazio, ma più difficile da vedere in campo sicuramente da Sozza, ma qua ci doveva stare l'intervento del VAR. Che non è avvenuto, non è stato neanche richiamato, quindi una decisione abbastanza inspiegabile che ha portato poi le proteste di Sarri. Anche se poi le proteste principali di Sarri sono avvenute nell'altro episodio della gara e stiamo parlando del gol di Kim, dove però non c'è nessun tipo di fallo. Infatti prima cosa non si lamenta neanche Luis Alberto, poi Luis Alberto non si lascia neanche cadere. Quindi diciamo è una protesta un po' senza senso, però comunque c'è stata ed è la decisione dell'arbitrato in questo caso corretta. Passiamo alla prossima gara che è Udinese-Roma, che ha arbitrato Maresca, che ancora una volta non è perfetto, a cui abbiamo deciso di dare come voto se meno. Una decisione su tutte fa discutere più delle altre e stiamo parlando sicuramente del non rigore assegnato alla Roma nel contratto tra Celic e Becao. Rigore che ci poteva stare, rigore da campo non da intervento del Varre perché si vede come Becao va spalla contro la schiena di Celic che ormai aveva già anticipato si era messo davanti col corpo. Quindi in questo caso il fallo ci poteva stare soprattutto considerando che poi nell'arco della gara tutti questi falli al di fuori dell'area sono sempre stati fischiati. Quindi Maresca in questo caso ha sbagliato, un gol, un rigore che avrebbe potuto cambiare la gara che poi è stata a senso unico in modo imprevisto da parte dell'Udinese, ma comunque qui la decisione non è stata del tutto corretta. Passiamo alle prossime gare come Spezia-Bologna che è stata arbitrata da Juha, a cui abbiamo deciso di affidare come voto 6,5. Una buona gara, come detto anche prima, nelle partite di domenica quasi tutti gli arbitri sono riusciti a fare molto molto bene e Juha è uno di questi. Giusto l'unica decisione della gara che è stata quella di non assegnare il rigore al Bologna nel contatto tra Dragowski, portiere appunto dello Spezia e Darnoutovic. Prossima gara e stiamo parlando di Cremonese-Sassuolo che ha arbitrato Pairetto a cui abbiamo deciso di affidare come voto 7,5. Già la scorsa stagione dell'arbitro della sezione di Nichelini era stata molto molto buona, quest'anno si è partito riconfermandosi e vedremo se poi magari nell'arco della stagione gli saranno affidati più spesso Big Match perché comunque le qualità ha dimostrato di averla nella scorsa e nell'inizio, nell'unica partita che ha arbitrato finora che è questa di stagione. Andiamo a vedere gli episodi che sono quelli giusto annullare, prima il gol di Dessers e poi il gol di Pinamonti entrambi per fuorigioco e giusti poi i gialli per Torstvet e Shadow. Passiamo alla prossima gara che è quella di Torino-Lecce che ha arbitrato Volpi a cui abbiamo deciso di affidare come voto 7+. Anche qui una buona gara tenuta bene questa volta sia dal punto di vista disciplinare sia dal punto di vista dell'unica decisione importante della gara. Stiamo parlando del gol di Pellegri che è stato giusto annullare per fuorigioco. Bella chiamata dell'assistente dell'arbitro e con questo vi volevo anche ricordare che il voto va dato all'arbitro sia per il lavoro dei guardalini sia per il lavoro del VAR. Quindi sicuramente una decisione, abbiamo sempre fatto così, può aiutare in alcuni casi, può essere cambiato in altri. Ricordando che poi sempre l'arbitro in campo ha sempre la decisione finale che è superiore a tutti quelli degli assistenti. Come nel punto di vista disciplinare invece sono stati giusti i gialli per Ilkan, Vlasic e Schurz, entrambi tutti e tre calciatori del Torino. Passiamo alla penultima, alla terzultima gara della giornata e stiamo parlando di Monza-Atalanta che ha arbitrato Sacchi a cui abbiamo deciso di affidare come voto sei meno. Qua non una grande gara di Sacchi, uno dei pochi arbitri che è riuscito questa giornata a prendere un'insufficienza. Insieme a Kiffi e Maresca, tutti e tre voto sei meno. Andiamo a capire perché. Prima cosa perché manca un rigore all'Atalanta nel contatto tra Pablo Marí e Malinoski. Mentre poi è stata giusta invece la decisione di convalidare il gol del giovane attaccante appena arrivato dell'Atalanta che è stato deciso di fare sortire, non c'è fuorigioco ed è questa decisione stata corretta però con l'ausilio del VAR perché dal campo il guardalino aveva segnato fuorigioco, poi con l'intervento del VAR la decisione è stata cambiata. Passiamo alla penultima gara che è Salernitana-Empoli che è stata arbitrata da Abisso. A cui abbiamo deciso di affidare come voto sette. Qua episodi grossi non ce ne sono stati. Tutti gli episodi sono dal punto di vista disciplinare. Adesso andiamo a vedere come sono stati giusti i cartellini gialli per Mazzocchi, Ghiomber, Satriano, Piazza e Castanos mentre manca un cartellino giallo per Henderson. Passiamo all'ultima gara che anche in questa giornata non ha avuto grossi episodi con un arbitro esperto che però sta arbitrando soprattutto partite importanti partite importanti dal punto di vista della classifica tra le squadre di medio-bassa qualità. Stiamo parlando di Valeri che abbiamo deciso di affidare come voto sei in una partita arbitrata abbastanza facilmente, pochi episodi dubbi tra Elas Verona e Sampdoria in cui l'arbitro nell'arco di tutta la gara ha sempre preso le decisioni giuste. Detto questo io spero che il video vi sia piaciuto noi ci rivediamo con un prossimo video qua sul canale. Ciao a tutti!